Nella Costituzione e nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio ai canali normativi e procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario rigore e le garanzie del giusto processo. Fuori di questo quadro ci sono solo le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre per nessuno a conclusioni di verità e giustizia. Così oggi Giorgio Napolitano si è rivolto al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura con una comunicazione istituzionale che parsa essere un messaggio neppure troppo indiretto alla presa di posizione assunta da Silvio Berlusconi nel caso Rubi in cui la Procura lo accusa di prostituzione minorile e concussione. Proprio contro la magistratura e i giudici di Milano oggi gli elettori del Cavaliere hanno manifestato davanti al Palazzo della Giustizia del Capoluogo Lombardo per difendere il Presidente del Consiglio il quale proprio nel pomeriggio ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica accompagnato da Gianni Letta. L'incontro è durato un'ora e un quarto. Sempre a Milano oggi si è tenuta la prima assemblea costituente di future libertà in cui il portavoce Italo Bocchino, in forte polemica con il Premier ha chiesto una bonifica della palude politica per gettare le basi per la nascita di una terza Repubblica. Sul versante Lega Nord invece continua il lavoro del carroccio alla riforma federale che entro due mesi, nella sua architettura complessiva, può diventare legge una volta approvato, dopo il federalismo municipale, anche quello del fisco regionale e dei costi standard nella sanità, facendo così nascere una nuova nazione federale. E proprio in tema di nazione e di unità nazionale, la cui ricorrenza del 17 marzo prossimo ha scatenato una polemica politica, si è espresso oggi il Ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli. Resto contrario, ha detto al fatto che la data del 17 marzo comporti la chiusura di molti uffici pubblici. Non mi pare opportuno caricarsi dei costi di una giornata festiva che avrebbe sicuramente ricadute sul settore privato. Inoltre, la legge in oggetto è priva di copertura, ha aggiunto Calderoli, ed è quindi incostituzionale in base all'articolo 81 della Costituzione.